Io ho fatto due foto nell'ultimo Consiglio Comunale e l'ho presentato al Presidente del Consiglio Comunale. Oltre ai rifiuti, miracolo ad Alcamo Marina, la spiaggia si è allargata di 30 metri, ma questo non è possibile nel mese di giugno avere queste problematiche. Noi come Udc, a questa amministrazione, abbiamo dato veramente spazio per dire collaboriamo, collaboriamo, collaboriamo. Hanno cambiato assessore, dal 1 settembre del 2019 c'è un nuovo assessore, l'assessore D'Angelo. Non ho visto, oltre a non vedere l'assessore D'Angelo fisicamente ad Alcamo, non ho visto una novità, un problema risolto. La politica che fa danno su danno, questo è un problema serio, ma che cosa vogliono secondo voi i cittadini? La prima cosa è la pulizia della città, la pulizia della città. Ora con la nuova ditta che è arrivata dal 1 giugno, io spero che riescano praticamente a pulire anche Alcamo Marina. I cittadini di Alcamo già se ne sono andati una larga parte dall'Alcamo Marina. C'è problemi pure di ritiro, di immondizia, dell'immondizia nelle case anche di chi praticamente è residente tutto l'anno. Problemi su problemi. Non è possibile, non è possibile che questa amministrazione ancora praticamente non capisce quando bisogna andare a pulire Alcamo Marina dopo 4 anni. Si parla già la settimana scorsa di interventi straordinari su spiagge e su altri versanti. Per quanto riguarda l'immondizia, i rifiuti, si parla di un servizio che dovrebbe iniziare ora a giugno. Alcamo Marina non va trattata a giugno, nemmeno a luglio come l'anno scorso. Alcamo Marina va trattata ad aprile. È una risorsa per questa città. O non lo capiamo. Ora, con questi problemi che ci sono ora, le case che magari si potrebbero anche, voglio dire, affittare in maniera regolare, anche le persone che vengono e vedono questa munizia sparsa in tutta la strada, ditemi voi se è una cosa giusta. L'Udc è a disposizione. Sul punto dei rifiuti noi siamo veramente incavolati, incavolati, incavolati. Io stamattina vengo da Alcamo Marina e ho visto dei cartelli. Benvenuto da Alcamo Marina e arrivederci ad Alcamo Marina. Sapete dove sono messe questi cartelli? Alla zona Lecce. Ma Alcamo Marina inizia e finisce alla zona Lecce. Ma nemmeno i cartelli sanno impostare bene. Alcamo Marina inizia dal lato Balestrade a Calattubo. Inizia e finisce a Calattubo. Per capire, verso il Lido Craig. Ma questo è il minimo. Stasera comunque lo presenterò al Presidente del Consiglio per andare a far aggiustare anche questa problematica. Una cosa importantissima. Ancora noi immediatamente ci dobbiamo pure adoperare per andare a togliere il problema che praticamente immischiamo per ora capri e capri. Dico io. Differenziato, indifferenziato e umido. Questa cosa dopo un anno e due mesi di quell'ordenanza di aprile 2019 la dobbiamo finire. La dobbiamo finire. Perché non è possibile. Non è possibile che una città come Alcamo che era al 70% di differenziate siamo quasi all'ultimo posto in provincia di Trapani. Non sono d'accordo. Ci sono problemi. Ma anche gli altri comuni hanno i problemi. Gli altri comuni hanno una percentuale più alta e sono comuni pure più grossi del comune di Alcamo. E sono dispiaciuto per la mia città. Grazie a tutti.